Consiglio regionale, governo cittadino, consiglio metropolitano. Chi crede che la partita della riunificazione del centro-sinistra a Bitonto si giochi su uno solo di questi fronti rischia di mancare il senso reale dell'operazione. Come ingenuo sarebbe credere che le due anime del centro-sinistra in procinto di riappacificarsi, quelle di maggioranza e il Partito Democratico, siano al loro interno coese su un unico obiettivo. Poco o nulla è emerso di nuovo dall'incontro tra il sindaco di Bitonto, Michele Abaticchio, e il direttivo del Partito Democratico di due giorni fa, se non la conferma che per il PD la partita non può giocarsi solo sul fronte regionale, ma deve partire dal governo cittadino. Alla luce della lettera consegnata dalla dirigenza del partito nelle mani del sindaco, sembrano smentiti gli annunci di quanti dal PD rassicuravano di voler contribuire all'azione di governo senza chiedere alcuna visibilità particolare. Crediamo che sia utile alla città, si legge nella nota, trovare tra le forze politiche un'intesa sull'agenda di governo rilanciando la programmazione politica locale con idee nuove e attori nuovi, che per molti si traduce con incarichi e assessorati in cambio del sostegno. Anche se non tutti nel PD smagnano per l'accordo, quanti hanno da sempre pesantemente attaccato il primo cittadino temono la presenza ingombrante del sindaco che incontrerebbe l'ex candidato primo cittadino Paolo Intini, un binomio che potenzialmente rappresenterebbe una minaccia per i vecchi equilibri interni del partito. Una deflagrazione che arriva in un momento in cui il vero obiettivo di molti è il Consiglio metropolitano ancora prima delle elezioni regionali. Nella città metropolitana a breve si decideranno infatti le sorti di un territorio vastissimo, da Monopoli a Trinitapoli fino a toccare le province di Potenza e Matera. Nel frattempo c'è fibrillazione anche nelle altre forze del Consiglio comunale. Dopo la sterzata verso Forza Italia dell'Udc si registrano le dimissioni di massa del direttivo locale che porterà il consigliere Francesco Toscano ad aderire al gruppo misto in attesa di definire la sua nuova collocazione. Grazie a tutti.